La pandemia ci ha costretto a rinunciare a viaggi e incontri, obbligandoci a familiarizzare con parole come DPCM, quarantena, lockdown, autocertificazione, anche se gli aretini hanno dimostrato un grande senso civico nel rispettare le regole, la città ha pagato un tributo alto in termini di vittime ed è per questo che la Polizia Municipale vuole ricordarle. I 170 anni della Fondazione della Polizia Municipale di Arezzo sono stati celebrati di fronte all'obelisco dell'ospedale San Donato, simbolo di tutti i morti di Covid ma anche di coloro che il virus l'hanno sconfitto. Più che un festeggiamento deve essere un ricordo, di ricordo a tutte quelle persone che non ci sono più con noi e alle loro famiglie, in maniera tale che questo momento possa rimanere impresso nelle nostre menti e che non si verifichino più, ma ci sia solamente lo slancio per poter superare la crisi e ripartire con una vita diciamo normale. È simbolico che in quest'anno in cui non si possono fare feste, festeggiamenti, si scelga dopo la messa di San Sebastiano di venire qui a onorare i caduti e le vittime del Covid. La Polizia Locale lo ha fatto con grande entusiasmo e lo fa perché loro tutti i giorni sono sulla strada a cercare di dare quel contributo riguardo alla popolazione che per altri versi invece danno i medici e gli infermieri del San Donato, quindi ci siamo ritrovati in questo posto perché si è ritenuto opportuno celebrarlo in questo modo.